Questa mattina quindi siamo andati ad apporre con l'Ufficio delle Politiche Giovanili questo striscione che è di fondamentale importanza per noi perché vuole essere una sorta di pietra d'inciampo, vuole essere un qualcosa che tutti notino affinché le nuove generazioni siano educate ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Ovviamente lo facciamo oggi, che è la giornata della memoria, che racconta purtroppo la più grande discriminazione della nostra storia, ma questo striscione sarà qui fino al 10 febbraio e quindi andrà anche a voler comprendere un altro evento davvero nefasso della nostra storia che è quello ricordato appunto del massacro delle foibe in quella giornata. Quindi è un'iniziativa che vuole evitare le discriminazioni di ogni genere educando le nostre nuove generazioni. L'abbiamo fatto anche con un'altra iniziativa che è quella di aver consegnato a tutti gli alunni una pergamena ricordo con una citazione della senatrice Liliana Segre che appunto riguarda la sua esperienza personale e che sarà oggetto di analisi all'interno delle classi. Io mi sento di voler ringraziare in modo particolare l'Istituto Comprensivo per la consueta collaborazione, in particolare nella persona della dirigente scolastica dottoressa Iside Lanciaprima e tutti quanti i docenti naturalmente e mi auguro anche tutti i genitori che vorranno anche affrontare queste tematiche con i loro ragazzi anche a casa perché davvero per un mondo migliore dobbiamo rivolgerci principalmente ai nuovi tortoretani e quindi siamo certi che iniziative come queste gettino un seme positivo nella loro coscienza e nella loro vita.